Va ora in onda, emigrazione in pillole. Definizioni del dizionario enciclopedico delle emigrazioni italiane nel mondo. San Lorenzo del Magro, Buenos Aires. Il club atletico San Lorenzo del Magro, con sede nel quartiere Boedo di Buenos Aires, è una polisportiva nota soprattutto nel mondo del calcio, dove rappresenta una delle cinque grandi squadre argentine con il Boca Juniors e il River Plate, l'Indipendiente e il Racing. Il fondatore del centro viene considerato padre Lorenzo Massa, il salesiano che ospitò nel cortile dell'oratorio della sua parrocchia in Calle, Messico, il gruppo di ragazzi che si erano battezzati lo Sforzosos del Magro. All'atto ufficiale di fondazione della squadra, il nome divenne San Lorenzo in onore del sacerdote e al magro per la zona di riferimento. Anche il principale soprannome di giocatori e tifosi, Quervos, ha origine dall'immagine dei preti vestiti tutti di nero e talvolta definiti anch'essi corvi, ma quelli del San Lorenzo sono anche chiamati santi a motivo della prima base, l'oratorio di Sant'Antonio. Nel San Lorenzo del Magro, che vanta il suo tifoso più illustre in Orge Mario Bergoglio, Papa Francesco, hanno giocato numerosi calciatori di origine italiana, come indicano chiaramente i cognomi, Angelucci, Biondi, Boggio, Borrelli, Cantatore, Coloccini, De Vincenzi, Gentiletti, Ligliotti, Giunta, Pontoni, Rinaldi, Romagnoli, Romeo, Rossi, San Filippo, Sacqualursi, Vaccaro. E tra quelli che hanno militato con successo nel campionato italiano si ricordano Francisco Loiacono, Gonzalo Bergessio ed Ezechiel Lavezzi. Definizione di Enzo Caffarelli.